è molto importante. Noi non eravamo innamorati, in realtà stavamo insieme solo per colmare la nostra solitudine. E adesso non stiamo più insieme, diciamo, da tre anni più o meno. Qualche tempo fa mi ha scritto dicendomi che aveva una figlia e che era sicura che fossi io il padre. E tu sei sicuro di essere suo padre? Scusami, vedi, non voglio essere indiscreta, però è per sapere. No, 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 ti capisco, ti capisco, anch'io avevo dei dubbi e così abbiamo fatto un test del DNA. E sì, sono io il padre. E adesso la bimba chiede di me, mi vuole conoscere. Io stavo cercando le parole giuste per dirtelo, ma non riuscivo a trovarle. No, non importa non preoccuparti, quello che non capisco è... Che cos'è? Lorenzo, come lo sapeva? Non lo so, non ho idea di come l'abbia scoperto, per poi minacciarmi, come se io non avessi intenzione di parlartene. Per me è importante, Flor, è molto importante. Ti rendi conto? Io sono padre. Io la voglio... la voglio vedere, voglio toccarla, abbracciarla. Chissà, magari mi assomiglia anche un po'. O forse... Sei buona e dolce come un pasticcino. Soffri a stare lontano da lei, o? Sì. Sì. Flor, io voglio... voglio stare con te con tutto il cuore e so che... che siamo in un momento importante della nostra relazione. Non posso pretendere che mi accompagni, però io devo... devo partire... No, non devi chiedermi niente. Sono io che devo chiedere una cosa a te. Che cosa? Una scienza che mi è appena venuta in mente, così all'improvviso. Che cosa? Vuoi sposarmi, secondo? Allora, non mi rispondi. Che succede? Ti è sparita la lingua? Sì, lo voglio. Amore, amore mio, che felicità. Flor, flor, flor. Mi hai... mi hai... mi hai colto così di sorpresa. È stato bellissimo, non me l'aspettavo. Ma anche per me è stata una sorpresa, perché non l'avevo, diciamo, premeditato. L'ho deciso solo adesso che devo sposarmi con te. Devo? Che ha detto Devo? Tu hai detto Devo. No, ho detto voglio, voglio dire voglio. No, 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 tu hai detto Devo. In realtà, vedi, la lingua, le parole a volte sono più veloce del pensiero. È che io adesso stavo pensando che forse quello che voglio dire è che non è, non è, non è meglio se prima ci fidanziamo ufficialmente. Sai, il matrimonio è un impegno molto serio. Noi invece ci fidanziamo, l'anello non è importante e continuiamo a conoscerci. Così magari non ci pentiremo. Come, ti sei già pentita? No, non mi sono pentita. Sì, invece. No, non mi sono pentita. Quello che voglio dire è che non vorrei bruciare le tappe e rovinare questa bella storia. Non credi anche tu? Beh, sì, forse hai ragione tua. È successo tutto così, così, fretta. Sì, sì, infatti è meglio così. Hai visto quando ho ragione, ho ragione anche questa volta. Succede tutto in una volta, mia figlia, il matrimonio. Sì, sì, ma adesso pensiamo al viaggio, come... Certo, tu adesso parti, conosci tua figlia, te la godi, stai un po' con lei e io invece ti aspetto qui seduta sotto un salice piangente e poi quando torni passerò tutta... Perché non vieni con me? Cosa? Sì, vieni con me, ci fidanziamo e andiamo a vivere in Europa.